rmt live rmt live buongiorno ben ritrovati questa radio music trento io sono vito nomade come sempre e dall'altra parte del vetro c'è un amico prima di tutto ma soprattutto è un consigliere comunale quindi no del lei volendo o no buongiorno direi assolutamente del tuo e soprattutto amico e poi anche consigliere comunale grazie andrea maschi benvenuto naturalmente rmt grazie grazie mille allora sei qui perché ieri hai fatto una bella presentazione davanti ai colleghi della stampa per parlare ancora una volta di abuso sui minori e giustizia degli adulti dico ancora una volta perché già ne abbiamo parlato in tante altre occasioni anche con degli speciali con degli ospiti importanti ma ovviamente è sempre molto purtroppo molto attuale la situazione in in alcune situazioni la criticità del nuovo protocollo fra tribunali dei minori e procure quindi oltre a essere sempre molto presente c'è anche un protocollo che in realtà ti ha un po' fatto saltare sulla sedia sì sì allora ieri ho fatto questa conferenza stampa parlando dell'interrogazione che ho presentato in consiglio comunale parlando di questo di questo problema il protocollo in sé non è un problema anzi è una cosa importante io ricordo quando l'attuale presidente del tribunale dei minori spadaro che allora nel 2019 era di bologna nella commissione di inchiesta per bibiano la commissione di inchiesta regionale sottolineava questa distanza fra tribunale dei minori e procure con le difficoltà relative e la necessità di trovare dei metodi di collaborazione fra queste realtà e quindi il protocollo di per sé è una cosa importante ciò che mi ha spaventato innanzitutto è il metodo in cui è stato pubblicizzato che sostanzialmente è passato quasi nell'anonimato questa situazione ma la questione è che innanzitutto c'era già un protocollo d'intesa fra tribunale dei minori di Trento e procure di Trento e ma le novità introdotte nel nuovo protocollo introducono delle criticità particolarmente particolarmente delicate quello che sembra velato o meno velato è la questione di aver inserito criteri e segnali di abuso all'interno di un protocollo che fanno tornare in mente ai noi i diavoli della bassa modenese che abbiamo avuto peraltro qua ospiti in quelli speciali con le conseguenze abbiamo ricordo saliano micca cioè biella dove quattro persone della stessa famiglia si sono uccise in una garage per la frustrazione di essere state accusate per nulla milano vicenza torino genova genova peraltro con un documento che io faccio riferimento nell'interrogazione e bibiano rignano flaminio queste sono e il fortetto il fortetto è una questione quasi a parte direi che meriterebbe uno speciale solo solo quello ecco che perché io ho voluto entrare nel merito e appunto entrando nel merito cerco di spiegare quali sono queste criticità la prima la prima è quella che nel documento cioè in un protocollo d'intesa cos'è un protocollo d'intesa fra tribunali è un vincolo contrattuale fra i tribunali o una convergenza di interessi una linea di azione ecco che allora inserire in questa linea di azione contro l'abuso sui minori perché è di questo che parla il protocollo scrivere l'obiettivo della cooperazione è volto anche all'emersione di quelle forme di quelle forme di violenza assistita intrafamiliare ecco che già qua c'è un qualcosa che non va bene la violenza e l'abuso sul minore non è solo intrafamiliare già qui si protocolla che l'abuso è intrafamiliare ma è anche esterno ma va avanti dice nei confronti della donna e dei figli minori quindi sono l'uomo e quindi attenzione sì ma innanzitutto noi dobbiamo lavorare sui minori e sulla donna con figli minori e il resto della famiglia dove è andato ma attenzione andiamo oltre perché in un altro passaggio dice ritenuto che è in questa opera collaborativa fra tribunali che potranno essere valorizzati gli strumenti civilisti minorili a tutela della donna e della provle previsti dall'articolo 343 bis del codice civile conseguente all'allontanamento dell'uomo maltrattante solitamente il padre o il compagno della madre qui si ratifica in un protocollo che è l'uomo maltrattante anzi è il padre o il compagno della madre il maltrattante e l'abusante facendo riferimento a un articolo di codice civile che non dice questo perché l'articolo 343 bis dice quando la condotta del coniuge correttamente perché si sta parlando di un coniuge o uno o l'altro ecco che nel se ne dedurrebbe che nel protocollo si è deciso di adottare addirittura andare addirittura oltre la legge laddove la stessa parla di coniuge il protocollo parla di padri abusanti e madri abusanti e madri vitti perché poi scusa Andrea però anche già l'articolo sarebbe un attimino avrebbe un po' chiuso il discorso perché si parla comunque coniuge ma sempre quindi all'interno della famiglia e già con te non è d'accordo la cosa però loro l'hanno proprio personalizzato l'hanno un po' interpretato in un altro modo questo nuovo questo protocollo l'hanno utilizzato per essere qualificati nel dire quello che stanno dicendo ma è anche un uso strumentale dell'articolo in proprio perché parla di altro l'articolo non parla solo dell'avuso sul minore ecco questo è l'argomento e vorrei precisare oggi ieri sera ho visto il programma su TCA hanno fatto un servizio del telegiornale titolato Trento come Bibiano no io non ho mai detto Trento come Bibiano ho detto che se si utilizzano questi tipi di protocollo e di metodi si rischiano anche casi come quelli e la logica credo io non sono un avvocato né sono un magistrato ma io credo che un magistrato quando si muove deve muoversi senza far danni collaterali cioè non può accettare che per salvare cinque bambini può dannezzare due famiglie deve salvarne piuttosto secondo me tre ma non far danni da nessuna parte certo che due rischiano di non essere salvati ma se io faccio di peggio perché attenzione che quando tu salvi un bambino salvi un bambino ma quando condanni una famiglia come minimo condanni due persone se non tutte le altre perché ricordo che a Saliano Micca si sono fatti fuori in quattro nonni figlio e zia tra l'altro debellando la famiglia ovviamente il bambino stesso è comunque automaticamente messo di nuovo in crisi esatto perché nei casi in cui appunto il danno è fatto su una famiglia che non aveva commesso il reato il danneggiato è in primis il bambino che viene allontanato dalla famiglia a sproposito e magari gestito in una maniera non corretta tanto che ha fatto uscire notizie non vere questi sono i casi ovviamente io non sto dicendo che funziona sempre così ma noi dobbiamo limitare i casi che abbiamo citato di cui ne abbiamo parlato a proposito di questo fammi fare una domanda bastarda ossia ma si parla nel nuovo protocollo di quello che fanno gli assistenti sociali? sni di traverso ecco questo è uno dei punti dei punti dolenti di questo protocollo cioè il far riferimento e qui vado a leggerlo perché se no mi padrisco di sbagliare alle linee guida di re del 2014 come indicatori indispensabili ai servizi sociali per dare elementi di giudizio all'autorità giudiziaria e un ulteriore documento della commissione consultiva dedicata agli abusi di infanzia e all'adolescenza istituita nel 2015 attenzione sono due documenti che parlano esclusivamente di violenza contro la donna lottare tutti contro questa violenza è necessario e fondamentale oltre che legittimo ma non deve essere confuso con l'abuso sul minore sono due argomenti diversi quindi far riferimento solo a questi documenti in un protocollo credo che sia scorretto peraltro parliamo di documenti ai quali partecipa attivamente nel redigerli Cismai e Cismai ha dei metodi che sostanzialmente sono stati condannati dalla magistratura se tanto mi da tanto Foti che Bibiano psicoterapeuta Bibiano Foti che ha patteggiato ha preso 4 anni e attenzione il processo deve ancora arrivare arriverà a giugno e ne verranno fuori delle belle e verranno fuori novità quindi fare affidamento a questo tipo di riferimenti è pericolosissimo peraltro a me piace ricordare il documento che è stato redatto dall'organizzazione Free Marcel di Genova un documento che sottolinea come queste linee guida e ci smai in particolare faccia riferimento a segni comportamentali che la scienza ha dimostrato essere totalmente specifici e questo è abbastanza pericoloso perché utilizzare segni di abuso segnali comportamentali segnali di abuso che non sono riconosciuti porta ad allontanare i bambini e l'allontanamento dei bambini l'abbiamo visto e rivisto può durare minimo due anni il bambino allontanato per due anni ha un danno già psicologico enorme cos'è che peraltro sono sempre l'altra cosa che a me piace affrontare e mi piace anche spiegare è come i riferimenti Cismai abbiano sempre detto e parlato di il 7% di bambini su 10 milioni di bambini che sono a rischio di abuso e maltrattamenti in Italia 700 mila bambini in Italia sono a rischio di abuso bene fanno riferimento però a un professor Kevin Brown che non si trova da nessuna parte a dire il vero se non che siamo anzi la prima è riuscita a trovare questo studio del professor Kevin Brown con la E finale non senza la E che ha fatto questo studio in un ambiente nel Surrey in United Kingdom su un campione di 14 mila nascite trovando una percentuale del 7% indicata quale profilo height risk sulla base di specifici criteri sociali ed ambientali un risultato che coincide con la presentazione di Bollini e gli allarmi sociali di Terze Home e Cismai allarme sociale quello dicevo prima attenzione 700 mila bambini 7% su 10 milioni lo dice Kevin Brown in quello studio ma quello studio dall'esame dello studio dei grafici di riferimento nella presentazione si può ricavare la natura del dato percentuale che risulta composto da un'incidenza di false positive alarms del 92,5 restituendo dunque un dato di abuser identified hits del 7,5% e dunque un'incidenza di abusi sul totale dello 0,7 del 7 per mille ecco come pare pare abbiano utilizzato uno studio per fare un allarme sociale che oggi non c'è ecco che questo ecco perché continuo a insistere che fa riferimento a determinate linee guida è pericoloso sì anche perché lo 0,7 per mille piuttosto che del 7% cioè è veramente allarmismo io attenzione sono deduzioni che se ne fanno perché non si è trovato da nessuna parte lo studio del Kevin Brown ma si è trovato lo studio del Kevin Brown e peraltro gli stessi studi e le stesse esplicitazioni poi utilizzano diagrammi diversi modificati però i diagrammi sono identici si capisce che sono quelli di quel professore che però vengono leggermente modificati con gli equilibri sfalsati è interessante sarebbe da approfondire da approfondire e siamo solo al secondo il terzo così dopo possiamo anche ragionare su queste questioni il terzo è che un attimo che riprendo magari no perché voglio dirla nel modo giusto non vorrei esprimermi nel modo sbagliato perché la questione è abbastanza semplice la questione è la necessità per quanto riguarda il protocollo di evitare le ripetizioni di audizioni e il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici per evitare i rischi di vittimizzazione cosa vuol dire che il bambino che sta accusando va interrogato e analizzato in maniera psicologico diagnostica sono pochissime volte il meno possibile che è esattamente quello che è successo ad esempio nel caso di Pipiano noi tribunale e assistenti sociali possiamo interrogare il bambino voi per la difesa no e quello che è successo è stato un grave danno a famiglie intere con suicidi con morti di infarto con prigione perché perché non hanno potuto difendersi il principio della difesa è sacrosanto noi non possiamo pensare che per salvaguardare il bambino che sta dichiarando certe cose la difesa non possa sentirlo la difesa non possa analizzarlo il tribunale il magistrato si debba basare esclusivamente sulla prima versione il magistrato secondo me che non sono magistrato deve verificare i fatti deve verificare che siano avvenuti prima di creare di fare un'azione di allontanamento io capisco bene che lo stesso Spadaro in commissione inchiesta diceva no io devo agire prima immediatamente perché devo salvaguardare il bambino certo ma come si diceva prima e se non fosse vero tu stai facendo un danno grave lo stai facendo e sai benissimo che funzionerà questo allontanamento per anni perché i tempi nostri sono questi e nel frattempo cosa sta nel frattempo non può essere sentito dai genitori non può vederli non può essere visto dall'avvocato difensore dagli psicologi difensori dagli assistenti sociali difensori e si perché se no sarebbe troppo troppa presenza e troppa pressione secondo quel che viene detto dal tribunale ha un suo perché certo che il bambino è sottoposto a un regime pesante ma ma anche se ci deve essere una forma di garanzia per la difesa altrimenti il rischio è davvero di creare queste situazioni e purtroppo abbiamo scoperto che non sono poche e non sono rare perché io conosco molto bene gli attori ai loro dei diavoli della bassa e li ho conosciuti bene davvero conoscendoli non riesci ad entrare col tuo sguardo all'interno dei processi perché ti viene il magone a pensare a come sono perché dici ma com'è possibile che abbiano pensato che questi fossero dei mostri conoscendoli poi capisco benissimo che durante un processo tu non ti puoi basare su quello che ti sembra essere però pensare che queste persone abbiano il diritto di difendersi direi che dovrebbe essere il minimo già sono sotto l'occhio del ciclone e giudicati dall'opinione pubblica ma l'opinione pubblica lasciamo che faccia il soccorso e cambierà anche idea la magistratura non può muoversi come un elefante correndo in un negozio di cristalli l'opinione pubblica poi bella questa idea dell'elefante l'opinione pubblica che poi si basa anche su quanto viene detto da noi media e spesso come citavi prima una tv locale insomma scrive un titolo o anche un quotidiano va a scrivere titoli che in realtà è la maggior parte di quello che viene letto dall'italiano medio purtroppo bisognerebbe anche di stare attenti a queste cose diciamo che noi non facciamo un buon mestiere mai sotto questo punto di vista perché si va sempre a cercare di poter vendere una copia in più si fate anche un mestiere difficile nel senso che questo è un argomento così delicato sì però capisco che state correndo da una notizia all'altra e a volte l'errore ci sta io devo dire che il servizio di TCA è ottimo così come l'articolo del 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 giornale Adige magari chi ha messo il titolo anzi sicuramente non era la persona il giornalista che aveva raccolto la notizia e ha buttato lì un titolo certo che dire Trento come Bibiano è allarmante ed è sbagliato perché Trento non è come Bibiano e speriamo che questo protocollo venga modificato per non creare possibilità che ci siano casi di questo genere qua così come l'occhiello dell'Adige che dice accordo fra comune e tribunale beh quello non crea nessun allarme però è giusto dire non è un accordo fra comune e tribunale ma è un accordo è un protocollo fra tribunali infatti senti Andrea il fatto che beh noi già te l'avevo detto stamattina ti ho scritto che la cosa si potrebbe ovviamente approfondire in altri speciali questa mattina insomma abbiamo il poco tempo dell'intervista classica insomma però io ti voglio chiedere ancora questo il fatto che venga detto Trento come Bibiano vuol dire che a Trento c'è qualche cosa come mai non emerge così pesantemente come è invece emerso in altre situazioni in giro per l'Italia io mi auguro che sia perché non ci sono casi di quel livello lì io me lo auguro fortemente non ho non ho notizia di casi di questa di questa particolarità certo abbiamo trattato un caso anche qui in radio molto particolare di casi di allontanamenti ci sono io non li conosco approfonditamente e quindi non mi posso spendere per dire una cosa o per dire l'altra sicuramente è giusto ed è bene che noi ci confrontiamo per cercare di utilizzare gli strumenti più adatti e devo dire a onor del vero che a seguito dell'interrogazione in consiglio comunale della pubblicazione del video il giudice Spadaro precedente del tribunale dei minori di Trento mi ha fatto sapere attraverso l'assessore Maule che era disponibile ad un confronto quindi ci siamo scritti delle mail c'è un'apertura insomma c'è un'apertura a trovarsi e io questo lo vedo positivamente certo nei prossimi giorni ci incontreremo e esporrò queste problematiche queste paure e vediamo se saranno disponibili o se sarà disponibile a fare le modifiche le modifiche necessarie bello sarebbe che magari si venisse anche qua in radio a fare due parole insieme per per trattare i vari punti e per magari trattare l'argomento perché stiamo sempre parlando di uno dei giudici che più ha conosciuto da vicino questi drammi perché lui sa bene cosa è successo a Bibbiano e ricordo sempre in quella in quell'intervento in commissione di inchiesta come lui si augurasse che laddove fossero stati accertati dei reati venissero puniti severamente bene la sua la sua speranza è stata esaudita perché Fotti è stato condannato a quattro anni non può entrare nei pubblici uffici per altrettanti o per qualche anno di meno mi pare ma soprattutto per qualche anno non può professare o non potrebbe professare la sua la sua professione professione si tratta che non si sa mai in Italia e sa le consulenze possono arrivare attraverso per forza di cose va bene dai allora facciamo così chiudiamola qui per adesso ma teniamo aperta la possibilità magari con Spadaro stesso di poter venire qui in radio e fare di nuovo uno specialone su questa situazione nel caso questi tuoi appunti questi tuoi punti soprattutto in qualche modo secondo te potrebbero essere modificati poi dal tribunale o comunque potrebbe ne so che stai sorridendo perché dici una cazzata però magari può anche essere vero no? no 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 non la dici io dico dovrebbero dovrebbero e questo io lo dico chiaramente se non fossero disposti a cambiarli io cercherò altre strade perché vanno cambiati cioè non devono entrare in un protocollo se mai in un metodo di lavoro se i numeri ti dicono che quello è il problema tu li tratti ma non lo puoi protocollare il metodo di lavoro è diverso da un protocollo di linee di intenti e di certificazione di quali sono le problematiche assolutamente senti spendiamo una parola positivissima sul lavoro che ha fatto Nicola un video bellissimo un'intervista straordinaria loro i vostri ospiti sono stati molto aperti molto tranquilli nel parlare tra l'altro qui a Trento ho visto le immagini quindi un grandissimo lavoro seguirà qualcos'altro qualche altro filmato delle interviste ulteriori a quello che è stato fatto da Nicola Mascher io devo dire che lui ha preso in mano la questione l'ha gestita da solo insieme al regista all'operatore e hanno fatto tutto da soli noi ci siamo mossi come come volevano loro il prodotto è di livello enorme e lo dicono non lo dico io lo dicono in tanti in tutta Italia e quindi sì mi auguro che succederà noi nel frattempo stiamo cercando di organizzare un evento il 19 di marzo ospitando molti attori sempre dei diavoli della bassa ma stiamo cercando di entrare in contatto anche con Bibiano piuttosto che Regnano Flaminio e quindi magari ci ritroveremo al 19 di marzo ma avremo tempo per pubblicarlo che è la nostra festa che è la nostra festa esattamente d'accordo grazie Andrea Maschio e ci vediamo presto ci sentiamo presto per questa per questa iniziativa perché come tu sai noi siamo molto attenti anche a questo grazie mille e un saluto a tutti i radioscoltatori grazie a tutti